salve buongiorno a tutti oggi è il 29 di aprile e ieri sera abbiamo centrato il 5 sulla nazionale che era il non il ritardatario uno dei ritardatari che è passato sul sole in aprile oggi ho scaramanzia scaramantico allora stamattina ci trasferiamo come del resto si fa di consuetudine in questo periodo vi darò tutte le informazioni necessarie voi del gruppo per giocare i prossimi numeri allora fate bene attenzione dato che su whatsapp voglio dire non posso raccontare tutta questa storia perché ci vuole ci vuole troppo spazio quindi dovete ascoltare bene il numero prossimo che giochiamo lo giochiamo su due ruote adesso vi faccio questo filmato non è che il numero deve uscire su una ruota sola quel numero lì uscirà sia su quella ruota e l'altra quindi sarà presente in due ruote questo numero quello di maggio ovviamente ovviamente voi potete scegliere una ruota potete giocarne due potete fare quello che volete io intanto vi spiego come funziona dovrebbe uscire alle prime estrazioni dovrebbe almeno uno almeno uno di questi due deve uscire alle prime estrazioni poi uscire all'altro poi vediamo andando avanti il percorso come da farsi perché questo mese diciamo ci sono altri due numeri che vi vorrei proporre però quattro estratti mi sembrano tanti mi sembrano troppi quattro estratti comunque c'è diversa roba questo mese di maggio da da mettere in gioco e garantita allora questi sono gli scontrini e gli miei scontrini che sono così diciamo con degli importi piuttosto diciamo sostanziosi vedete vuol dire che io ho la possibilità di garantire questa roba che vi piacciono stamattina voglio fare ho già preparato un altro filmato con i scontrini senza le musichette poi volete o non volete le chiacchiere stanno a zero le chiacchiere sono molte le chiacchiere stanno a zero e per il momento chi ha i numeri sicuri e chi fa vincere all'otto è la sottoscritta se volete entrare nel gruppo siete sempre benvenuti io ho un gruppo di persone che giocano tranquillamente che non creano problemi che si portano a casa alla fresca e fine del film adesso mi sposto dall'altra parte iscrivetevi sul nuovo canale rumble rumble non è difficile attenzione ciao a tutti e grazie